Il ministro dei trasporti onorevole Malvestiti inaugura la ventinovesima mostra del ciclo e motociclo. 420 posteggi, una vasta partecipazione straniera che mette in più vivo risalto le nostre specialità. Per esempio questo cruiser dotato come le auto più progredite del cambio automatico di velocità. La batteria permette l'avviamento elettrico. Si preme un pedale, si parte. Perfezionati i tipi ormai popolari, un cerchio rotante riproduce le asperità del terreno e mostra l'ottimo funzionamento delle sospensioni. I motori si fanno più accessibili. Linda e Rodoni all'avanguardia dei visitatori sportivi. Masetti, il campione mondiale della categoria 500, sta scegliendo catene con Milano, lo scudiero di Coppi. Una costruttrice che passa dai Vampires agli Scooters propone un modello per famiglia. Moto leggera per il marito. Diventa il veicolo della moglie. Vari tipi di ciclisti raffigurati da stimisgalli. La macchina di Fausto Coppi 51, simbolo di un destino. Una mostra moto perpetuo che promette la velocità. Basta infatti alzare gli occhi e già il paesaggio fila accanto alle ruote. E tutto fila. Via col vento!